Ciao Ciao Come è andata? Non posso dire niente scusa Come ti senti? Come ti senti? Bene 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 Che tempo ti ha dato? Nessuna Nessuna Intrano come la scoada? Stai l'apoi si può dire Ciao Non posso dire niente E a piaciuta? Ciao Facciam nici un scudere Una Sì Scusate Un attimo Per abbiamo un intimo Dr. Scusate 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 Grazie.